Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale YouTube. Sono ritornato nel Skyblock e mi avevo scordato di dire una cosa nel video scorso, esattamente come è fatta la mia armatura. Allora ve la faccio vedere, faccio on e così. E ragazzi è veramente potente perché mi da 80 di vita, 20 cosce di bollo utili e 20 di difesa, è tantissimo. E ora ragazzi iniziamo a fare un nuovo video. Voglio scoprire cosa c'è nella Time Limited Event perché io ci ero andato, sì. Io non ho scoperto benissimo com'era. Allora ora di scoprire cos'è e che cosa si può fare. Guardiamo. Fantastico, che cosa serve? Ah, sì, me lo compro uno. E basta, uno su uno. Vabbè ragazzi, allora 50, 30, mamma mia, ma sei gustoso. Mamma mia. E cosa si può costruire? E cosa si può costruire? Ho 4 minuti. Allora mi nascondo qua. Ok. Strano. Mamma mia, non ho mai visto una cosa del genere. Allora ragazzi. Allora ragazzi. Aiuto. 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 No, 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 no. No. Sono volto giocare forte. 3 miglia tolti. Allora me ne prendo 10. Sì, vabbè. Sì, vabbè. È gustosissimo. Mamma mia. C'è qua che chiude tutto qua. Benissimo. Mi chiude. Muovi, muovi. 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 Però muovi lo stesso. Sì. Ah, non uccide finalmente. Oh. 3 minuti. Mamma mia ragazzi. Non so cosa ci sia. Mentre io qua sto facendo delle tasche. E tante ne ho fatte. Allora prendiamo un po' di cose che abbiamo fatto. Mamma mia. Muovi blocchi e cose di questo modo. Non so cosa ci sono. Non so cosa ci abbiano. 2 minuti ragazzi. È quasi semi fatta. Questo è il centro. E qua ci do. Ma qua non posso. Va bene. Allora dobbiamo aspettare. Mentre io guardo cosa c'è. E poi qua ci danno questa roba. E mi potrebbe capitare che mi davano. Guardiamo. Ok. Chi è? No. Però non so cosa fare. In questa isola non c'è nulla da fare. E allora? Cosa c'è? C'è? Bello? Eh va bene. Però non ho capito cosa fare. Eh ragazzi. Se sapete qualcosa sotto nei commenti. Dicetemelo. Perché io non ne so nulla di questo mondo strambo. Di qua tre minuti. Se io faccio una muraglia. Mi attaccano. No. Ok. Ora devo. Mi devo fermare. E faccio una muraglia. Mi fa sempre lo stesso in danno. Ah sale anche. Vaglia sale anche. Mamma mia. Ah ti uccido. Mi fa schifo. Vattene. Mamma mia. Forse da due. Faccio da tre allora. Che ne so io. Vabbè. Vabbè. Qua non c'è nulla. Vabbè. Una cesta c'è. E quale cesta? Scusatemi. Qua c'è qualcuno. No. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non voglio. Vabbè io. Completo una missione così che ci debbiano cose. Ok. Completo una missione che ci debba 40 punti. Che malaccio. Così ti uccido. Sì. Mi hai fatto male. Sì. Che mi fa. Che noia però. Non ci dà un cazzo. Vabbè. Aspetto qua che poi ci danno qualcosa sicuramente. Ma in questa cesta vaga cosa c'è? C'è qualcuno? No perché io voglio guardare i ragazzi nelle notte. No dai. Aiuto. Ma che? Cosa state facendo? Perché sono qua? Ma mi ricordo che è in un altro posto. Vabbè. Vado qua e guardiamo cosa c'è. Non è? E con questo ci prendo questo. Con 12 questo. Allora quelli cesta ci danno queste robe? Forse sì. Forse tutti ci danno quelle robe. La parte più vuota e la parte più vuota è di là. E nella mia parte è la vuota. Allora ragazzi cosa faccio? Vado di là. Non è così tanto vuota. Ti uccido eh. Guardiamo cosa c'è. Cosa? Ci dà? Non lo so. E io ho... Un milione di soldi. Non so. Cosa? Cosa? Non lo so. Cosa io ho... Cosa mi hai fatto danno? Ma sei te? Oh. Cosa mi devi farmi che danno è? È questo. E qua guardo. Allora se c'è qualcuno nelle vicinanze. Ah. Devo aspettare quattro minuti. Allora aspettiamo. Non so cosa succede. Ok. Mentre io nessuno nelle mie vicinanze mi scelto anche. Pensino che non c'è nessuno. E io con questa spada che è abbastanza brava. Più o meno. E poi uccido tutti. In un colpo. Più o meno. Ma basta. Però chi è? È lui. E poi mi sono vicino in quelle zone. È bene. Con quella dovata. Faccio un po' di spazio ragazzi. Perché forse... Aspetta che blocco qua. Quattro minuti. Ora. Vabbè ragazzi. Aspettiamo che in questa cesta. Se mi do un delebone. Guardiamo cosa ci ci si davanno. Allora. Nelle vicinanze vedo quel player. Di là. Se vedete di là. Si sta allontanando. Bene. Mentre il più vicino è lui. Bellissimo. No. 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 ok, mi nascondo, vai in un'altra base, pegue nele mia scusa mentre io mi prendevo a costa, basta, però io voglio giocare in pace, chi c'è, mamma, no, però vaga, è impossibile, io vado in ogni, in ogni cavolo di roba e poi vengono loro che mi traiano, vabbè vaga, io guardo qua cosa c'è e se, se viene qualcuno mi rompe le scatole, mi impazzo, chi c'è, niente, vado di là allora, non so cosa c'è, c'è un boss, perché loro stanno facendo dei danni, ah, c'è un boss, va bene, non lo uccide, però, mamma mia, c'è difficile, uccidela, mamma mia, c'è imponente, tu non sei bene, ha paura, più o meno, ok, mi allontano, mi allontano, va bene, ora, ok, ragazzi, il video lo faccio finire qua, ho scoperto cosa c'è, dobbiamo prendere delle gemme e con quelle possiamo prendere qualcosa e non devo andare avanti, allora, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel like e ciao!